Buongiorno, la viabilità è sostenuta in direzione dei centri urbani per i consueti trasferimenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. Condizionata la viabilità dalla nebbia tra Magliano Sabino e Ceprano sulla 1 e sulla 24 tra Taglio Cozzo e Valle del Salto e vi comunico che oggi la protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla su Calabria, Basilicata, Puglia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia. In questo momento abbiamo una criticità in area Ligure dovuti a un veicolo in avaria sull'A7, si registrano code sulla 12 tra il bivio dell'A7 e Genova Est, code che ritroviamo anche sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Abbiamo anche una segnalazione di un incidente che si è verificato in autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Ancora per programmati i lavori di manutenzione anche oggi si registrano code per due chilometri sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna e in Sicilia rallentamenti sulla tangenziale di Catania tra Passo Martino e Simeto. Grazie per l'attenzione, buona giornata, appuntamento alle 8.27 su Rai News per un prossimo aggiornamento. Grazie, arrivederci.